Una mappatura dei capannoni industriali distribuiti tra le province di Padova e Treviso. 32.000 fabbricati censiti sui 92.000 presenti in Veneto, che ricoprono 41.300 ettari in oltre 200 comuni, ovvero il 18,4% della superficie consumata, con un 12% di spazi dismessi e inutilizzati. Tutti i dati inseriti nel geoportale Capannoni On-Off, nato su iniziativa di Assindustria Veneto Centro, in collaborazione con le Camere di Commercio di Padova e Treviso e con il Consorzio BIM-Piave. L'obiettivo è proprio di capire l'utilizzo di queste aree, di questi capannoni, quindi se sono attivi o meno, il codice ATECO, quindi anche la destinazione e anche tutte le infrastrutture alle quali questi sono collegati. Viene fornito uno strumento che agevolerà l'indirizzo di sostenibilità e di rigenerazione che è diventato un po' indirizzo fondamentale non solo degli enti pubblici ma anche di chi fa imprese. Migliaia di dati caricati nel database consultabile sul portale che punta a favorire i progetti di trasformazione e rigenerazione degli immobili, valorizzando al meglio il patrimonio esistente anche per i futuri insediamenti produttivi. C'è la richiesta, c'è una richiesta molto importante di logistica e poi un territorio come il nostro che è avvocato alle esportazioni ha bisogno di questi spazi. C'è un altro aspetto che è molto importante, che nei capannoni abbandonati a volte c'è ricchio che siano deposito di rifiuti tossici o di rifiuti che costa a smaltirli e quindi che vengono abbandonati. Quindi anche dal punto di vista della legalità diamo una mano alle forze dell'ordine perché il territorio sia controllato. Abbiamo molti capannoni ma molti sono inutilizzati e degradati, quindi sarebbe interessante anche a fronte di non utilizzare ulteriore suolo, di poter utilizzare gli edifici esistenti. Un progetto pilota che parte dalle due province maggiormente produttive del Veneto ma che potrebbe essere esteso a tutta la regione. Questo progetto che presenta un Atlante estremamente contemporaneo in piena linea col PNR che parla di sostenibilità e innovazione digitale va incontro a questa esigenza. È una sperimentazione ma che ritengo assolutamente necessaria a esportare su tutto il nostro territorio Veneto. Grazie. Grazie. Grazie.